L'organizzazione non può essere data in due giorni ma ci vuole il tempo. Il tempo è poco perciò penso che sia determinante più cercare di rimotivare i giocatori quando c'è un cambio allenatore nuovamente c'è sempre questa cosa e io cercherò di infondere loro anche la competizione perché giocherà sicuramente chi sta meglio, chi dimostra attraverso il lavoro sul campo attraverso la settimana giocherà, chi vedo che è in difficoltà non giocherà perciò le miscetie saranno fatte su quello. Storicamente io mi ricordo